E' sempre domani, ma alle 18.30 si terrà un incontro organizzato dal Partito Democratico dal titolo Alghero si rinnova l'edilizia sostenibile e le fonti rinnovabili, un'opportunità di sviluppo economico. Presente il consigliere regionale Mario Bruno e il segretario regionale Silvio Lai, partecipazione anche di altri esponenti e leader del PD. Sarà ancora un fine settimana ricco di eventi, quello riservato dal programma del Cadean 2011. Diverse iniziative per grandi e bambini si svolgeranno in differenti location del centro storico. Al via, la due giorni di manifestazione, al mercato tra gusto e teatro, festa anche alla pietraia. Proseguono gli eventi nell'ambito dei festeggiamenti per il Cadean. Questa sera al via il secondo weekend tematico organizzato dal centro commerciale naturale Alghero in centro e dalla fondazione Meta. Dalle 16 in piazza Pinopiras prendere al via un laboratorio per bambini a cura di Bibliomela. Alle 18, sempre in piazza Pinopiras, si aprirà Renaissance, evento artistico a cura di Roberta Filippelli. Alle 19, al mercato ortofrutticolo, è prevista la prima di due giornate di una manifestazione no gastronomica e teatrale al mercato tra gusto e teatro, curata da Giuliana Corbia. Alle 21 appuntamento nella Torre di Sulis, con la rassegna teatrale Teatri in Torre, che si ripeterà anche domani, sempre alle 21. E' nella giornata di domani, dalle 17 alle 20, animazione itinerante per le vie del centro storico a cura dell'associazione Antico Baule. Secondo appuntamento con al mercato tra gusto e teatro, con l'animazione per bambini, mentre in piazza Pinopiras si svolgerà a Sapori di Sardegna. Il concerto dei Mad Company partirà invece alle 19. Intanto ieri è stata inaugurata l'ex circolo dei marinai di Piazza Civica, la manifestazione Arte Ingegno Natale 2011 dell'associazione Algerarte. Sono stati presentati i pittori con le proprie opere, artigiani e obisti locali, che hanno dato dimostrazione della propria manualità. La manifestazione pittorica di artigianato locale si concluderà il prossimo 24 dicembre. E come avete sentito del servizio appena andato in onda, oggi e domani si svolgerà presso il vecchio mercato ortofrutticolo la rassegna enogastronomica e teatrale al mercato tra gusto e teatro. Ce ne ha parlato la curatrice Giuliana Corbia. Giuliana Corbia, tu sei l'ideatrice di questa bella iniziativa al mercato tra gusto e teatro. Domani la prima? Sì, domani il primo appuntamento, quindi venerdì 16 dicembre. Vi aspettiamo a partire dalle 19 fino alle 21.30-22. Saremo all'interno del mercato dell'ortofrutta per proporvi una serata molto particolare, quindi un circuito di degustazioni enogastronomiche. Avremo quindi la presenza di sei ristoranti importanti della città di Alghero, sette cantine, le potrete vedere poi nella nostra comunicazione. Il tutto verrà, gli operatori dell'ortofrutta ovviamente parteciparanno all'evento, il tutto verrà orchestrato con la cornice della rappresentazione del teatro di sala da parte di Cerco Pagando. Il secondo appuntamento è ancora anch'esso molto importante, sempre legato alla cucina e al teatro. Abbiamo voluto unire le performance dei pasticceri algheresi, nello specifico il pasticceria Ciro, che ci darà la disponibilità di venire in loco dentro il mercato dell'ortofrutta, decorare le torte in diretta con i bambini, mentre andrà in scena la rappresentazione tra te tenuta da parte dello spazio T e il teatro d'inverno. Quindi vi aspettiamo sicuramente venerdì 16 dalle 19 e sabato 17 dalle ore 17 all'interno del mercato dell'ortofrutta. Grazie. E sempre nel programma predisposto per fine anno sarà ancora una volta la piazza del mercato della Pietra e ospitare il momento della festa prenatalizio denominato Aspettando il Natale. In collaborazione con il comitato di quartiere La Pietraia, sabato 17 e domenica 18, a partire dalle 19, le canzoni del cantautore algherese Pino Piras, interpretate inoltre dal gruppo Folk La Muraglia, e ancora un grande karaoke al quale tutti i presenti saranno invitati a partecipare, che vedrà la premiazione delle migliori esibizioni canore grazie ai contributi offerti dalle varie attività commerciali. Nel 21 dicembre si aprirà il concorso Votel Presepio con la visita dell'esposizione dei presepi realizzati con materiale riciclato dagli alunni della Scuola Media 1 più 3 Grazia dell'Edda del Plesso di Via Malta presso il centro sociale del Parco Stazione. Le Acli della Sardegna avviano la quarta edizione della Scuola La Buona Politica. La prima sessione, prevista domani mattina all'Hotel Catalunni, avrà come tema etica, legalità e politica e si svolgerà a partire da una comunicazione dell'avvocato Alessandro Benedetti, professore di criminologia all'Università Europea di Roma. Avvocato penalista ha rappresentato la parte civile nel processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Ed ora ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco!